Non c'è nessuno! Mi serve aiuto! Sono freddo! Oh! Grazie al cielo! Mi è arrivato qualcuno! Sto per esplodere il tempo! No! Aspetta! Non andare! Possiamo impedirlo! Ti prego devi aiutarmi a ripararmi! È vitale per il funzionamento del mio biologico! E bene? Non sento più la sensazione! Non sento più la sensazione! E grazie a te che giudicino c'è un po' di spazio! No! 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 Non sento più il satori e non pensi... No! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.